La tappa si svolge dopo il rinvio forzato della manifestazione che era in calendario lo scorso mese di agosto a causa dell'incendio che ha lambito pericolosamente il parco della biodiversità e creato danno alla struttura del centro ippico. Arriveranno oltre 100 cavalieri amprovenienti a tutte le regioni del centro sud. Il concorso è stato presentato nella provincia di Catanzaro dal presidente Enzo Bruno, dal presidente regionale della FISE Roberto Cardona e dalla dirigente provinciale competente Rosetta Alberto. Il concorso di quest'anno è stato spostato di qualche mese dopo l'incendio che ha colpito la Valle dei Mulini e il parco della biodiversità però nonostante tutto ciò il concorso si terrà con qualche settimana di ritardo ma insomma siete riusciti ad organizzare il tutto. Sì, è stato un fatto drammatico per il polmone della città di Catanzaro, questo incendio. C'è stata una grande solidarietà da parte di tutto il mondo sportivo, da parte di tutto il mondo politico per questo evento drammatico che c'è stato. Era una cosa importante non abbandonare l'attività sportiva in un ente pubblico, nella sede di un ente pubblico dentro il parco della biodiversità organizzata dalla federazione che anch'esso è un ente pubblico. C'è stata una presa di posizione, c'è stato l'impegno da parte della provincia, della dirigente Alberto e da parte di me personalmente per essere in maniera testardi e per riportare lo sport al centro dell'attenzione della vita sociale di una comunità come quella calabrese che ha avuto la fortuna di essere stata scelta fra le cinque tappe nazionali come momento di manifestazione sportiva di alto livello. Ecco questo che è importante, questo impianto di proprietà della provincia resta comunque il fiore all'occhiella del centro sud e quindi non onorarlo con manifestazione di alto livello sarebbe declassarlo.